Doria che prova a sfruttare le corsie laterali. Non può sbagliare. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calzato in porta di prima. Un gol bellissimo. Gol che stiamo rivedendo. Hanno sorpreso la difesa mettendo palla in mezzo con questo cross. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato. Bravo.